Fronte comune sull'immigrazione, 28 leader europei riuniti in vertice a Malta si sono mostrati uniti nel trovare una soluzione per ridurre flussi migratori provenienti dal Nord Africa. Abbiamo raggiunto un accordo su un pacchetto di misure che ci aiuterà a gestire meglio il flusso e a salvare le vite. È prevista la cooperazione con le agenzie delle Nazioni Unite, l'atto commissariato per i rifugiati e l'Organizzazione Mondiale per l'Immigrazione in Libia, ma anche nei paesi di origine. Una forte iniziativa esterna europea per diminuire ed evitare la perdita di vite. I dirigenti europei considerano anche la nuova politica estera di Donald Trump per Ollanda inaccettabile la pressione del Presidente americano nelle questioni europee. I governi che vogliono stringere delle relazioni bilaterali con gli Stati Uniti hanno l'opinione pubblica dalla loro parte, ma non c'è futuro con Trump se non un avvenire definito insieme. La posta in gioco per l'Europa è alta in questo momento e fragili i suoi equilibri interni ed esterni. Solo l'unità dei suoi membri potrà garantire il successo del progetto europeo.